Una lunga riflessione sull'identità cristiana. Papa Francesco ha incontrato i Vescovi dell'Asia nel santuario di Emi e ancora una volta ha chiarito cosa vuol dire essere ministri di Cristo. In un mondo che troppo spesso si perde dietro le mode, il Pontefice ha precisato che senza un radicamento in Cristo le verità per le quali viviamo finiscono per incrinarsi, la pratica delle virtù diventa formalistica e il dialogo viene ridotto a una forma di negoziato o all'accordo sul disaccordo. Il cristiano invece è per sua natura aperto agli altri senza ipocrisie e quindi deve promuovere un dialogo capace di essere accogliente. Questa capacità di empatia, concluso Papa Francesco, conduce ad un genuino incontro in cui il cuore parla al cuore senza dimenticare la propria identità.